A Feltre riprende l'attività dell'ospedale di comunità. Dopo oltre un anno in cui la struttura è stata utilizzata per il trattamento dei pazienti covid meno gravi, il reparto al terzo piano del padiglione Dalla Palma torna a svolgere le sue regolari funzioni, almeno fino all'autunno prossimo, quando l'ospedale di comunità sarà spostato in una nuova sede. Non dobbiamo abbassare la guardia, però oggi possiamo essere contenti che con l'attuale quadro epidemiologico non abbiamo la necessità di avere delle strutture dedicate ai pazienti covid in fase acuta o post-acuta. Gli ospedali di comunità sono sicuramente un sostegno anche alle famiglie, in particolare delle persone anziane o con patologie croniche, che per 4-5 settimane possono in qualche modo avere il loro caro in un contesto in cui c'è un'assistenza infermieristica maggiore di quella che può essere a domicilio. Sono 15 letti a disposizione nella struttura con un'occupazione media che va dalle 4 alle 6 settimane. Nell'ottica delle varie fasi di recupero del paziente, il reparto viene definito come intermedio. L'intermediazione della struttura sta tra ospedale e territorio, tra ricovero, quindi l'affrontare nella fase di ricovero, la diagnostica e la terapia e consentire la stabilizzazione del paziente all'interno dell'ospedale di comunità. Effettuata la stabilizzazione, avendo un occhio di riguardo verso i suoi aspetti funzionali, sono questi i nostri indicatori privilegiati, vi è l'immissione nella rete dei servizi, che va dal domicilio a tutta la residenzialità extra ospedaliera. I centri di servizio, ricoveri di sollievo, centri di urni, a seconda del piano assistenziale individuale che ne fuoriesce da una valutazione che viene effettuata all'interno dell'ospedale di comunità stesso. Stiamo completando dei lavori al quarto piano, probabilmente per l'autunno dovranno essere completati. Si voleva riattivare questo reparto e quindi l'abbiamo attivato in questo piano.